Bentornati in un altro video targato San Marino Tour Service. I colleghi vi hanno già parlato di quelle che sono le vacanze studio, le partenze di gruppo durante l'estate, ma andiamo adesso ad approfondire un attimo cosa sono i corsi di lingua all'estero. Innanzitutto un corso di lingua all'estero è un'esperienza che ti permette di trascorrere 3, 4 o 5 settimane in un paese straniero per migliorare il tuo livello di lingua. Ricordati bene che se partecipi al bando IMS corsi di lingua all'estero devi avere dei prerequisiti ovvero avere 16 anni o compierli entro il 30 di giugno, essere in possesso di una certificazione linguistica B1 o anch'essa averla entro il 30 di giugno e essere iscritto al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno dell'istituto superiore. Perché sceglierlo rispetto a una vacanza studio? Beh perché magari quella destinazione l'avete già visitata in gruppo e vi piacerebbe scoprirla in autonomia e fare veramente il primo viaggio da gioco agli adulti. Quindi perché non scegliere un corso di lingua con San Marino Tour Service. Le scadenze IMS ve le ricordo che va sempre meglio rinfrescarle, le graduatorie verranno pubblicate entro il 14 aprile, dovrete fare il caricamento dati su IMS entro il primo maggio ma poi non disperatevi se non siete nella prima graduatoria, aspettate lo scorrimento che verrà entro il 5 di maggio e caricate tutta la documentazione entro il 19 dello stesso mese. Questo vale per i clienti IMS però mi raccomando clienti privati è un'offerta validissima anche per voi quindi partite anche voi con un corso di lingua all'estero per San Marino Tour Service. Per quanto riguarda le date copriamo bene o male tutta l'estate quindi all'incirca da fine giugno fino al 3 settembre che è l'ultima data prevista come rientro. Le destinazioni sono diverse e sono le mete più gettonate ovvero Londra, Dublino, New York, Toronto, Malta per chi non vuole rinunciare al mare e per i clienti privati anche Dubai. È una tipologia di soggiorno che prevede un viaggio individuale quindi abiterete con una famiglia ospitante oppure in una residenza con altri coetanei. Vi verrà offerto il vitto completo quindi pensione completa, il corso di lingua che ha una durata minima di 20 ore ma abbiamo anche diverse destinazioni dove le ore settimanali sono 22 o addirittura 23 per fare una full immersion nella lingua che andrete a studiare e al termine incluso sempre nel costo del pacchetto avrete anche il vero e proprio esame di certificazione ovviamente riconosciuto dal mondo. Per maggiori informazioni consultate il nostro sito web e scrivete anche una mail a cdl-viaggia-ts.com per qualsiasi dubbio o perplessità saremo lieti di aiutarvi. Ovviamente il volo aereo, i trasferimenti non sono inclusi ma saremo veramente felici di potervi aiutare dandovi una quotazione anche in merito a quei servizi aggiuntivi. E per concludere mi chiederete ma perché devo scegliere proprio ts? Beh noi garantiamo il supporto da prima della partenza quindi per la scelta della destinazione, per il caricamento della documentazione su IMS e anche durante tutto il vostro soggiorno e non abbiate paura anche al vostro rientro. Poi anche perché proponiamo le mette più gettonate che non possono mancare nell'elenco della vostra bucket list delle destinazioni da visitare e lo facciamo con dei partner con cui collaboriamo da anni ed è veramente un'esperienza a cui non potete rinunciare. E poi diciamocela tutta, ci sono io che vi aiuto? Quindi cosa state aspettando? Perché non siete online? Iscrivetevi subito per i nostri corsi di lingua all'estero. Ciao! 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 Grazie a tutti